Non c'è nessun colpevole per la morte di Pier Mario Morosini, il calciatore del Livorno che a soli 25 anni è deceduto il 14 aprile del 2012 mentre era in campo contro il Pescara. A distanza di sette anni la Corte d'Appello di Perugia nel processo di appello bis ha assolto i tre medici Vito Molfese in servizio al 118 e i due medici sociali delle società sportive Maglio Porcellini ed Ernesto Serafini che erano stati condannati per omicidio colposo. Lo scorso 10 aprile la Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara e confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila disponendo il rinvio presso la Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio. Il medico del 118 di Pescara Molfese era stato condannato in primo grado nel 2016 a un anno di reclusione. Ai medici sociali Porcellini del Livorno e Sabatini del Pescara erano stati inflitti otto mesi di reclusione ciascuno. Morosini si accasciò al 29esimo minuto della gara ad intervenire per primo il medico del Livorno, poi sopraggiunse Sabatini del Pescara e infine il medico del 118 Molfese. Il calciatore morì nell'ospedale pescarese. Secondo l'autopsia a stroncare il giovane è stato un arresto cardiaco dovuto a una cardiomiopatia ritmogena. L'inchiesta si concentrò sulle carenze nelle procedure di soccorso in particolare sul mancato uso del defibrillatore nonostante ce ne fossero due nello stadio e uno sull'ambulanza. Nel secondo grado la Corte d'Appello dell'Aquila aveva confermato quasi in toto la sentenza di condanna ma secondo la Cassazione che ad aprile scorso ha rinviato il giudizio a Perugia le valutazioni espresse nella sentenza di condanna risultavano da un lato carenti dall'altro inficiate. Ma è stato anche osservato inoltre che nella sentenza d'Appello non sono state considerate le condizioni di concitazione e urgenza in cui si svolse l'azione di soccorso. Dopo la lettura delle motivazioni della Corte d'Appello di Perugia la Procura Generale potrà decidere se ricorrere in Cassazione.